Oggi vi voglio parlare di cosa accade quando invii un CV in Toscano. Un recruiter ti chiamerà e ti farà delle domande. La prima domanda è perché l'agente immobiliare? Qui si vuole vagliare soprattutto l'interesse verso la nostra professione. La seconda domanda è invece rivolta a se hai già fatto lavoro di vendita oppure lavoro col pubblico, quindi un lavoro relazionale, di PR o similare. Ma è sicuramente un aspetto che va a tuo vantaggio. Se non hai questo aspetto, l'interesse verso la nostra professione e verso la nostra azienda sarà un elemento importante per poter proseguire nel leader. Un'altra domanda è se sei auto o moto munito. Questo perché il nostro lavoro è a contatto col pubblico, è molto in mobilità, quindi è sicuramente utile avere una moto o un'auto. È sicuramente una facilitazione per farla nel migliore dei modi. Pensi di avere questi requisiti? Pensi di essere la persona giusta per fare l'agente immobiliare? Scrivimi nei commenti se hai queste caratteristiche e soprattutto quali caratteristiche hai per fare l'agente immobiliare.